oggi ragazzi si riscatta il piccolo della missione inerlare quindi partiamo subitissimo bella ragazzi la missione cattura un flop rinevato questo è esattamente il flop rinevato lo potete trovare dappertutto ragazzi quindi una missione semplicissima basterà solo che prendere una canna pesca anche comune raccogliere sulle pozze e riuscirà abbastanza facilmente ragazzi come sempre spero che il video vi sia stato utile bella Grazie